Ma buonasera carissime teste di Vitello e benvenuti in questo nuovo video. Allora, Gonzalo Higuain e Mattia Caldara sono ufficialmente due nuovi giocatori del Milan, ma il mercato rosso-nero non si ferma, non si ferma perché Leonardo ha tutta l'intenzione di portare un grosso, grosso, grosso nome a centrocampo. Ormai lo ha capito, la lacuna attuale del Milan, una volta acquistato Gonzalo Higuain, non è più il centravanti ma il centrocampo, centrocampo che l'anno scorso ha dimostrato di soffrire, soprattutto perché non ci sono grosse alternative ai titolari, che si ha fatto 55 partite, Bonaventura è un po' un doppione di Suso e Cialanoglu come tipologia di gioco, mancano centimetri. Insomma, l'idea sarebbe quella di inserire un centrocampista molto forte dal punto di vista fisico, tecnico, il cosiddetto giocatore box to box. Quello che vi ho detto, nonostante le risate che si sono fatti qui tutti quanti, è che la prima idea di Leonardo è quella di portare Sergei Milinkovic, Savic. Il Milan ha fatto già un'offerta alla Lazio, un'offerta anche importante, ma da quello che sappiamo l'ho dito avrebbe sparato ancora più alto. Tra l'altro si è parlato anche dell'inserimento di alcune contropartite, c'è chi ha parlato di Biglia, di Musacchio, di Borini. A me risulta addirittura che tutto il discorso siano saltati fuori anche i nomi di Bonaventura e di Andrè Silva, però non ne sono sicuro, non ha avuto conferma in merito. So che il Milan ha fatto un'offerta grossa che al momento lo dito ha rispedito al mittente. Poi si sono fatti anche altri nomi, il primo è quello di Adrien Rabiot del Paris Saint Germain, giocatore che è in scadenza nel 2019. Il PSG sta provando comunque in tutti i modi a offrirgli un rinnovo e la situazione al momento è in stand-by. E poi c'è il capitolo dedicato a Mino Raiola. I contatti tra il Milan e Mino Raiola adesso sono frequenti, con l'addio di Mirabelli e Fassone, possiamo dire che Raiola ha ricucito i rapporti che si erano persi nell'ultimo anno e nelle conversazioni che Raiola ha avuto con Leonardo sono saltati fuori tanti nomi interessanti, da Paul Pogba a Marco Verratti. Ora, io vi spiego un po' qual è la situazione. Pogba era praticamente un giocatore della Juve. La Juventus quest'anno si era messa in testa di riportare Pogba a Torino, questo che è appurato. Il problema che ha fatto saltare il banco un po' è stato l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Perché con l'acquisto di Cristiano Ronaldo e il conseguente ingresso di Orge Mendes all'interno della Juve, diciamo che Raiola non l'ha presa proprio bene e se l'è un po' legata al dito facendo saltare un po' il tutto. Negli ultimi giorni la Juve sta provando a ricucire un po' il rapporto, perché la Juve ancora ad oggi non ha perso di vista Pogba, Nedved sta provando un po' a fare da mediatore, ma al momento la situazione Pogba-Juve è molto ingarbugliata. E in questa situazione ingarbugliata ha provato a buttarsi dentro anche il Milan. Il problema di Pogba in ottica Milan è che Pogba necessita anche di aprire altri discorsi, soprattutto legati a Donnarumma e Bonaventura. Insomma, si sta parlando, si sta parlando molto, ci sono molte idee in ballo, tra l'altro oggi hanno anche parlato di Matteo Kovacic. Al momento, da quello che so io, non c'è nulla di concreto, è più un'ipotesi che altro, però non si sa mai, magari se Modric dovesse rinnovare col Real, potrebbe anche diventare un nome concreto per il centrocampo del Milan, quello di Kovacic. Però staremo a vedere. Ragazzi, vi lascio questo riassunto, quindi, e che dire, ci vediamo ad un prossimo video, sempre Forza Milan, ne attendiamo con ansia quello che succederà nei prossimi giorni, perché quello che ho già detto nel primo video su Gonzali Guain e su Mattia Caldara è che il nostro mercato non è finito qui, tutt'altro. Ci vediamo!